Allora, benvenuti. Siamo nel primo incontro di Blender 281. Blender 281, questo è un corso che stavo dicendo poco fa ai presenti. Il senso di questo corso di Blender è quello di dare la possibilità o persone che hanno visto poco Blender di cominciare a entrare un po' in Blender oppure anche le persone che già lo sanno per fare un pochino di esercizio e un pochino di ginnastica su Blender, soprattutto su Blender 2.81, 2.8 perché se l'avete già usato, Blender 2.8 è leggermente diverso dal Blender 2.79. Quindi la prima domanda che vi faccio, prima ancora di partire su qualunque cosa, è quanti di voi hanno già usato Blender 2.8? C'è l'ultima versione. Scrivete sulla chat di Zoom. Quindi GB Prof l'ha già usato, Lorenna io ho 2.80, ma il 2.80 è molto simile. Ok, l'ho usato. Adesso facciamo la domanda inversa. Chi di voi invece non ha ancora usato Blender 2.80? Ok, Michelina, Michela che dice solo un poco, Maria Luisi faccina anche, quindi ok, ci sono delle persone, sì, ci sono, c'è qualcuno che, quindi ok, siamo abbastanza, vediamo un po' se qualcuno mi ha risposto qua, mi sembra di no. Vediamo un po', chat locale. Ok, perfetto, allora siamo giusti e sintonizzati. Allora, beh, prima di entrare un po' nel merito di Blender 2.81, e ricordandovi che comunque queste lezioni di Blender vengono fatte alternativamente da me, da Eva, Crai e da Giovanna, Giovanna Giannone. Quindi, e tra l'altro adesso si sta pensando di estenderle, stemperarle un po' come lezioni, in modo tale da consentire a chi di voi vuole poi frequentare anche la parte di VR, di poterlo fare con più tranquillità e magari anche cercare di assorbire, mi è stato detto poco fa, il fatto che siete tutti molto presi dagli scrutini fino al 12, comunque da qui al 10-11 febbraio ci siamo quasi, quindi siamo arrivati quasi al dunque. Allora, vedo che adesso ci siamo, Eva, Crai, allora io mi metto, questo qui chi è? Era Gigliola che non si siede. Io rimango in piedi perché così mi trovo meglio a parlare. Prima di entrare nel vivo di Blender 281, vi vorrei farvi vedere un pochino di piccola storia di Blender. Non so quanti di voi la conoscono. Cioè domanda, quanti di voi sanno quando Blender è diventato open source, quindi è stato distribuito per la prima volta al mondo in versione open source? Nessuno probabilmente la conosce, in effetti è abbastanza interessante. Adesso la vediamo un po', quindi dimentico, perfetto. Allora, lo vediamo da... Vediamo un po' se ce la facciamo. Ecco, questa diapositiva la vedete tutti voi. Non preoccupatevi, io odio le diapositive, quindi ho preparato soltanto tre in croce. Però l'ho fatto perché volevo darvi alcuni punti di riferimento. Quindi, allora, la data curiosa è il 2002. Attenzione, prima del 2002 esisteva già, adesso lo vediamo nella prossima diapositiva, se riuscirò. Allora, questa è tutta Wikipedia, cioè quindi niente di stratosferico, proprio un copio in colla da Wikipedia. Quindi il programma è stato sviluppato da uno studio, quindi da un'azienda, quindi che lo faceva per professione, ma a un certo punto il programma è stato preso in carico da Tom Rusendal, che evidentemente, adesso qui non è segnato, quindi non sono sicurissimo al 100%, ma comunque era stato, probabilmente aveva lavorato nella NeoGeo, e quando la NeoGeo si era dissolta, in qualche modo, aveva conservato il codice e aveva fondato una società, NAN, si chiamava Not A Number Technologies, tra l'altro in quel periodo, mi sembra di ricordare che avessero fatto anche altre cose, oltre a Blender, e nel 98 hanno cominciato a distribuire una versione freeware di Blender. E a un certo punto anche questa società è andata in banca rotta, e nel 2002 questa società si è chiusa. Nel momento in cui si è chiusa, questo prodotto software, cioè Blender, era rimasto, sarebbe caduto nell'oblio, quindi sarebbe stato dimenticato, e per evitare questo, insomma, Tom Rusendal e altre persone hanno chiesto, hanno fatto un, com'è che si chiama adesso, un, quando si raccolgono i fondi, in maniera pubblica, quindi hanno cercato di raccogliere dei soldi per cercare di comprare, sostanzialmente Blender, farlo comprare alla community crowdfunding, ecco, perfetto, grazie Lucia. In questa campagna sono riusciti a ottenere 100.000 dollari, e in questo modo sono riusciti ad avere il codice. Quindi dal 18 giugno 2002, anzi, il 7 settembre 2002, avevano raggiunto l'obiettivo e quindi è stato pubblicato il software in ottobre del 2002. A tutt'oggi, il progetto open source di Blender è uno dei prodotti più brillanti della, diciamo, della galassia dei software open source. Adesso non so se sia il migliore disponibile, ma è sicuramente, se non è il migliore, sarà sicuramente nella rosa dei primi 5 o 6 dei prodotti insieme a Linux, insieme a qualche altra cosa, qualche altra meraviglia. Il motivo per cui faccio questa storia è perché voglio farvi vedere come appariva una delle prime versioni di Blender nel 2003. Probabilmente io non l'ho mai vista questa versione qua, ma l'ho scaricata e l'ho lanciata, l'ho fatto uno screenshot. e chi di voi, adesso stiamo facendo un po' di insomma di storia proprio del prodotto, quindi qui in pratica ci sono un sacco di pulsanti messi un po' male, disegnati un po' approssimativamente. detto fra noi questa cosa qua, io non l'ho usata questa versione qua, ma ho usato quella successiva che era la Blender 249B. Cioè in pratica Blender, perché ho cominciato a usarlo? Perché nel 2007 ero entrato in Second Life, nel 2008-2009 ci si era si era capito che per produrre delle cose in Second Life bisognava usare Blender, in particolare non c'erano ancora le mesh, si usavano gli Sculpted, gli Sculpted Prim, e Sculpted Prim c'era un bellissimo programmino che permetteva di costruirle con Blender 249. L'interfaccia è quella che state vedendo ed è un'interfaccia molto molto complessa. Anche se guardate vi ricordo un po' quello che succede adesso, nel senso che c'era l'Object Mode, c'erano le proprietà delle mesh, insomma c'erano tutta una serie di cose, però vi assicuro però vi assicuro che questa cosa era assolutamente difficilissima da insegnare. Quindi quando nel 2009 io facevo dei corsi di Blender, facevo dei corsi di Blender su questa interfaccia e assolutamente insegnare le persone a fare qualcosa era un miracolo. Poi alla fine ci riuscivamo lo stesso a fare qualcosa ma la fatica che si faceva era diciamo adesso noi per fare una cosa ci impieghiamo magari non so 5 minuti con Blender 249 si impiegavano delle ore ed era molto molto complicato. Poi ecco vedete qui abbiamo invece la versione di Blender così come appariva nel 2018 che è la Blender 279B e la versione 279B è la versione che forse avete usato molti di voi siamo nettamente più avanzati nel senso che finalmente non c'è più confusione su sulle zone nel senso che qui finalmente abbiamo le varie zone che sono dello schermo che hanno un significato quindi qui si trovano sulla destra si trovano le caratteristiche della scena sulla sinistra si trovavano insomma le cose per poter inserire insomma dell'utilità c'era ancora un po' di confusione fra le due zone nel senso che a volte le cose si trovano a sinistra a volte si trovano a destra certe cose comparivano anche in basso e così via diciamo che così è diventata usabile Blender ma nel già nel 2016 mi sembra abbiamo iniziato nel 2016 e 2017 hanno cominciato e hanno costruito la versione Blender 2.81 allora le caratteristiche di questa Blender 2.81 sono allora intanto la primissima cosa è sostanzialmente equivalente equivalente a Blender 2.7 nel senso che non hanno alterato le funzionalità quindi quindi tutto ciò che si poteva fare con Blender 2.7 si può fare anche con Blender 2.8 la cosa interessante dal mio punto di vista hanno proprio fatto una serie di semplificazioni dell'interfaccia che sono abissali tanto per cominciare a sinistra in realtà come vedete hanno alleggerito tutto nel senso che c'è solo più un po' sulla falsa riga di altri prodotti quindi in pratica Blender ha cercato di diventare molto più simile ad altri prodotti già in uso da tutte le parti e visto che ad esempio chi di voi usa Photoshop o Gimp non so se c'è qualcuno di voi Photoshop PaintShop insomma tutte queste cose qua allora ma anche Unity per cui poi lo vedranno c'è una cosa simile insomma ci sono tutti i programmi hanno di solito sulla sinistra delle palette cioè che sono praticamente degli simboli grafici che permettono di avere un'idea di quello che si può ottenere quindi questa qui è la tavolozza la paletta paletta in inglese che credo che in italiano che in italiano si traduca forse con tavolozza insomma quello lì cioè praticamente così come il pittore praticamente ha un qualche cosa dove va a prendere gli strumenti che vuole usare qui abbiamo a sinistra questa cosa qua e questa cosa qua è diventata molto semplice quindi sceglie gli strumenti da usarsi e sulla parte destra invece abbiamo la parte che ci dice le caratteristiche del progetto quindi in alto a destra abbiamo la struttura gerarchica di tutto ciò che è nel progetto c'era qualcosa del genere anche in anche in Blender 2.7 ma in Blender 2.8 e in particolare sul Blender 2.81 è diventata ancora più utile questa qua che è praticamente l'indice l'indice di Blender che è questo oggetto qua adesso stavo cercando di cliccarlo ma non si clicca questo qui praticamente completamente si può lavorare sulla nostra sulla nostra scena 3D direttamente da questa da questa parte e un'altra cosa non so se avete notato è che in generale hanno ridotto di molto la complessità delle finestre cioè se vedete qua ci sono soltanto una colonna di dati no? se torniamo alla alla versione 2.79 in realtà vi faccio una domanda secondo voi quante colonne di dati ci sono qua? in realtà poi ce ne sarebbe un'altra anche qua ma si manca la n che ci sarebbe anche la n però qui quante colonne ma vediamo solo qui sulla destra non so se notate qui sulla destra ci sono due colonne di dati che sono sovrapposte se vedete invece sulla versione 2.81a c'è sempre solo una colonna quindi l'interfaccia è rimasta più scarna e quindi in vista si hanno le cose si riescono a trovare più facilmente perché non si deve scorrere due colonne per trovare un oggetto inoltre non so se avete fatto caso su Blender 2.81a abbiamo i colori quindi ci sono delle cose bianche delle cose rosse delle cose blu e ad esempio le cose rosse sono associate alle texture le cose blu sono associate alla modellazione e le cose verdi sono associate a un'altra cosa ancora insomma che è diversa quindi e il bianco anche sono altre cose a supporto quindi già anche solo questa diciamo attenzione ai colori se torniamo alla versione 2.79b vedete che è tutto allo stesso colore non so se ci avete fatto caso e non solo tutto lo stesso colore non ci sono simboli grafici particolari se non questi qua sotto però per l'uso corrente non c'è non c'è molto aiuto quindi il 2.81 cerca di aumentare l'usabilità e inoltre come vedete è molto più decorato la 2.81a perché ha sostituito simboli grafici laddove prima non c'erano se noi torniamo indietro vedete che qua avete una piattaforma vuota no mentre invece se andate sulla 2.81a vedete che c'è una serie di simboletti c'è un ghismo ghismo l'avevo spiegato già sapete cosa vuol dire ghismo forse l'avevamo già fatto anche insieme a voi nel corso di settembre comunque i ghismi credo che siano no i ghismi sono semplicemente gli aggeggetti i gadget che vengono presentati a video quindi sono questo qui è un ghismo e ognuno di questi quando viene aperto diventa un ghismo quindi sono delle sono delle praticamente sono dei menu visuali fatti in modo tale da aiutare a capire che cosa si vuole ottenere quindi il ghismo dell'orientamento che è messo qua ci sono i ghismo questi sono i ghismo per poter ingrandire ridurre andare in pratica tutti questi ghismi che hanno messo li hanno messi per aiutare chi usa Blender da tablet o da un touch screen sì 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 i livelli sono spariti sono spariti da qua ma quei livelli erano molto confusionari adesso i livelli sono rappresentati qua dalle collection cioè queste collection che sono qua sono c'è le collection e poi se le vedremo in italiano le raccolte e le raccolte sono molto più intuitive perché prima quando voi facevate i livelli dovete ricordarvi la posizione del vediamo un po' faccio vedere un attimo questi i livelli erano questi vero? i confermi allora questi livelli qua dovevi ricordarteli per posizione allora erano comodissimi ma tutto sommato non si sapeva chi era che faceva cosa quindi io magari sono fatto male io tutte le volte che li usavo dovevo cliccarne cinque per trovare le mie robe quindi adesso la stessa cosa invece viene svolta da qua quindi sì quindi bisogna poi essere ordinati a dare a creare dei livelli e allora il concetto è cambiato ma è diventato molto più potente e tra l'altro per alcuni universi più semplice si possono dare dei nomi ai livelli qui non si potevano dare quindi sulla destra qui adesso quando si prende la collection qui si prenderà il livello 1 il livello 2 poi si potrà dire quali livelli vedete sono visibili o meno quindi in realtà c'è tutto quello che c'era prima adesso poi in particolare non sono un esperto non ho mai lavorato con i livelli però magari possiamo farlo se vi interessa fare anche un piccolo piccolo esperimento fatto adesso comunque il concetto non è tanto dire cos'è meglio 2.79 2.80 il fatto è che adesso è diventato 2.8 quindi chi lavora con il 2.7 potrà lavorare ancora probabilmente per uno o due anni ma tra due anni il blender del 2.8 sarà diventato talmente più potente talmente forse anche più semplice che il 2.8 il 2.7 insomma diventerà obsoleto nel senso che nessuno lo userà però ovviamente siete liberi di usarlo se vi trovate a vostro agio però ad esempio non ci saranno più tutorial non ci saranno più plug-in ci saranno i plug-in vecchi insomma è la stessa storia che facciamo va bene allora questa quindi è la piccola i incipit fatto qua sopra quindi adesso andiamo effettivamente sul sul blender vero e proprio e andiamo un attimo a vedere allora innanzitutto molte delle cose che faccio vedere le ho già fatte vedere nei video che sono disponibili non so se le ho già messi nel in classroom i video però sicuramente in facebook ve l'ho fatto vedere se non ci sono in classroom adesso ve lo faccio magari lo prechiamo qua quindi su youtube ok andiamo nel nei miei video e vediamo un po' allora i video che avevo cominciato a fare sono due che sono questi qua l'installazione vediamo un po' se riusciamo a ci dovrebbe essere un crea link condivisibile sì comunque questo qua giusto così per riferimento che è il video dove insegna a installare blender 2.81a e poi c'è questo che invece fa vedere un po' come si costruisce una damiera allora rispetto ad alcuni corsi scorsi sono stato anche qui molto più semplice nel senso che nei corsi degli anni scorsi abbiamo fatto delle scacchiere ah perfetto perché purtroppo sono sempre molto impegnato e poi anche quando non lo sono un po' mi dimentico allora gli altri anni avevamo fatto gli scacchi adesso quest'anno almeno qua è il tuo terrore allora qui praticamente non gli facciamo gli scacchi facciamo la pedina della dama la pedina della dama è un semplice cilindro e quindi dovrebbe essere banale se volessimo poi fare gli scacchi comunque ci sono i miei video vecchi dove spiego un po' come provare a fare gli scacchi ah una cosa su blender 2.81 c'è finalmente hanno messo disponibile una funzionalità bellissima che è lo sculpting solo che lo sculpting si funziona bene questo è lo sculpting funziona molto bene con la versione 2.81 e sulla 2.80 non l'hanno non l'hanno cioè mancano delle cose e comunque e quindi in questo corso non faccio vedere lo sculpting anche perché alcuni di voi mi hanno detto che possono lavorare solo con la versione 2.80 non so se sono presenti qua chi comunque la aspetta no va beh lo faccio poi quindi saltiamo proprio tutta la parte di sculpting perché non interessa e quindi andiamo invece discutiamo un secondo su quello che c'è qua sì lo sculpting è difficile ma da adesso sta cominciando a diventare quasi facile dico quasi perché ci manca ancora ci bisogna conoscere alcuni trucchi però ci sono dei programmini fuori non so scult tris mi sembra ad esempio che permette di allora blender ha questa caratteristica che anche quando è diventato facile tra virgolette non è diventato facile ma è diventato quasi facile il quasi come dice Eva quasi tra virgolette e perché per poter fare le cose facili in realtà bisogna impostare due o tre cosettine che normalmente non vengono impostate quindi lo sculpting avete visto che io poco fa sono entrato in sculpting e ho provato a scoltire così e in realtà non mi parte subito lo sculpting per abilitarlo devo fare un po' di cose quindi per esempio devo abilitare lo sculpting dinamico e allora comincia a scoltare però non lo fa bene bisogna impostare praticamente dei parametri e questo è un po' ovunque in blender e quindi questo è un po' ancora il problema che i default cioè praticamente la configurazione di fabbrica con cui esce blender deve essere manovrata un po' perché così come viene presentata non serve cioè o comunque fa delle cose non belle e da qui nasce un po' il fatto di fare dei corsi per riuscire a trovare queste impostazioni però di oggi non volevo addentrarmi in particolari cose volevo solo sottolinearvi alcune cose che magari non ci sono nei video e in particolare una cosa che ho scoperto recentemente è che vedete che noi possiamo fare G per spostare sulla X sulla Y quindi se io premo l'oggetto facciamo così anzi facciamo un bel allora cancelliamo il cubo shift A e mettiamo la scimmia questa è la scimmia una cosa che avevo dimenticato di dire prima ma è veramente fondamentale che secondo me già quello vale tutto per la Blender 2.81 e che si usa in Blender 2.8 il tasto sinistro per la selezione quindi chi di voi ormai era abituato ad usare il tasto destro si troverà un attimino in imbarazzo ma il fatto di usare il tasto sinistro è semplicemente fatto per rendere Blender più simile a tutto il resto del mondo perché tutto tutto l'universo viaggia con il tasto sinistro quindi se io seleziono la scimmia seleziono il tasto sinistro non vedo perché dovrei selezionare col tasto destro secondo i guru di Blender invece il tasto destro serviva perché così il sinistro poteva fare altre cose eccetera ma vale anche il viceversa nel senso che adesso finalmente avendo liberato il tasto destro io posso fare il tasto destro e per esempio mi presenta ho breggiatura levigata quindi posso levigare la mia la mia scimmia tranquillamente e questo è questo è una delle cose che si possono fare si possono fare altre cosette ma diciamo che la cosa più interessante è quella di aver di aver accesso a delle funzionalità in più dicevo per muovere l'oggetto o vado a prendermi l'impostazione che c'è lì e me la muovo quindi col mouse oppure uso la tastiera se uso la tastiera si usano queste accortezze per esempio una volta che sono impostato qua posso fare X no X cancella posso fare G per dire che voglio afferrare vedete che quando faccio G mi compare il simbolo che è poi lo stesso che c'è quassù no questo simbolo e quindi io accedo rapidamente al grab si chiama no col grab muovo la scimmia però se la voglio far star ferma sulla X lui vedete che me la muove praticamente sulla X stessa cosa G Y la muove sulla Y e poi c'è una cosa che io non sapevo che se vuoi premete G e poi premete il tasto centrale del mouse col tasto centrale del mouse e muovendo il mouse potete indicare qual è l'asse su cui volete muoverlo quindi questo è un modo per evitare di digitare XYZ e muovere lo stesso lungo le tre direzioni cardinali questa è una roba che ho scoperto veramente da pochi giorni e che non credo che ci fosse nella versione nella versione di 2.79 poi me lo confermate ma diciamo che siamo lì quindi un'altra cosa interessante che possiamo fare mi sembra che qui possiamo fare snap possiamo col tasto destro possiamo spostare la selezione speravo che ci fosse qua cioè in pratica c'è un'opzione che permette di sistemare cioè le coordinate di impostare a zero quindi le coordinate XYZ la rotazione e il tutto cioè in pratica se noi apriamo questo coso qua sulla destra questa tendina che si apre con la N e poi andiamo su elemento qui c'è scritto praticamente la posizione la rotazione e la scala ora tutti i molti video che vi ho fatto e che magari vi spiegherà anche Eva e Giovanna ogni tanto vi diciamo dovete pulire la scala cioè dovete fare il reset no le apply in termini della scala perché se noi abbiamo un oggetto e poi facciamo la scalatura la scalatura si fa con questo con questo simbolo e poi si può ampliare lungo una direzione CTRL Z oppure lungo tutte le direzioni vedete che cambiano le sue dimensioni ma soprattutto la scala ora il concetto di scala è un pochino confusionario in Blender potrebbe essere un pochino confusionario il punto è che alcune operazioni fatte sugli oggetti si comportano diversamente a seconda della scala dell'oggetto altà allora quando la scala non è 1 possono accadere delle cose veramente bruttissime io personalmente non accorgendomi di queste cose tante volte cercavo di fare dei mestieri e poi di perderci delle ore perché non mi funzionavano e poi dopo ho scoperto che non avevo seguito bene il tutorial perché nel tutorial la persona si accertava di questa cosa quindi se noi facciamo contro la dice se noi facciamo contro la ecco contro la abbiamo l'applicazione della scala quindi applicazione della scala vuol dire che la scala va a 1 vedete che va tutta 1 e quindi a questo punto il nostro oggetto è diventato è diventato normale nel senso che non è un oggetto che aveva una scalatura X per cui chissà come si comporta ma è fatto in quel modo lì tra l'altro notate che abbiamo qui anche delle informazioni sulla posizione dell'oggetto cioè sulle dimensioni e via discorrendo noi possiamo anche se noi vogliamo fare che l'oggetto vada nella posizione 0 posizione 0 vuol dire all'incrocio dei tre assi noi possiamo operare qua nel senso possiamo mettere 0 0 0 però c'è anche una possibilità che ci permette di un po' come l'applicazione della scala che ci permette invece di azzerare l'oggetto e mi sembra ah no vediamo un po' se qualcuno di voi si ricorda perché io nella foga me la sono già dimenticato contro Z ecco se vi ricordate contro la posizione scala fa quello vediamo un po' se facciamo contro la e facciamo posizione no cioè a 0 ah si me l'ha messo vediamo un po' facciamo vediamo qua facciamo contro la posizione no ecco contro la posizione in realtà ha fatto un mestiere diverso e qui non ci ha cioè ha azzerato la posizione ma in realtà ha mosso l'origine che non era proprio quello che voleva quindi ha spostato tra l'altro questa è una cosa che è interessante a volte è utile poter vedete quel pallino arancio che c'è in mezzo non so sapete cos'è questo pallino arancio qualcuno di voi l'ha già incontrato dei soggetti delle cose che ha fatto quel pallino lì viene chiamato l'origine ora la cosa interessante che ho appena scoperto è che a volte è utile cambiare l'origine e cambiare l'origine si fa evidentemente con quel modo che abbiamo che qualcuno di voi ha chiesto adesso se io faccio applica posizione questo vedete che mi ha cambiato la posizione dell'origine quindi è un modo che possiamo poi vedere adesso voi magari non vi dice niente ma l'origine in realtà è molto importante se poi portate gli oggetti nei mondi virtuali perché quando voi appoggiate un oggetto su un pavimento di solito il programma cosa fa? mette l'origine dell'oggetto e poi fa sorgere l'oggetto a partire da quell'origine quindi se l'origine è al centro della scimmia quando viene collocata per terra in questo modo la scimmia potrebbe essere messa sostanzialmente inabissata per terra mentre invece se l'origine quindi contro la posizione è messa sotto la scimmia quando viene poi rezzata in no l'ho spostata come mi aveva suggerito qualcuno di voi quindi ho fatto contro la contro la tanto voi vedete qua che ci sono tutti i tasti che premo ho fatto contro la e poi ho detto applica posizione in questo modo ho spostato l'origine che è un modo e poi sto facendo contro z perché ve la faccio ritornare a posto invece probabilmente il reset delle cose mi sembra che sia un alto c no non è un alto c potrebbe essere qualcosa non lo so allora posso provare a usare f3 allora se faccio potrebbe essere shift c adesso vediamo un po' qual è possiamo cancella ecco cancella rotazione o cancella posizione cancella posizione e alt g quindi se voi non vi ricordate il nome di un o la la sequenza che fa scattare diciamo un comando potete usare f3 adesso io l'ho fatto in italiano se voi vi trovate meglio in inglese qui ovviamente bisogna scrivere le cose in inglese quindi cancella posizione alto g quindi alto g vedete cancella la posizione forse anche shift c potrebbe fare quello che vediamo vediamo shift c no shift c fa evidentemente un'altra cosa non ho capito bene cosa fa ma direi allora qui ci sono credo che da qualche parte ecco una cosa che è diversa da blender 279 è che sono cambiate sono cambiate il posto in cui ci sono le preferenze quindi modifica preferenze qui la novità assoluta è che però se cambiate le preferenze non siete più obbligati a salvarlo salva da solo forse metto a centro la visuale e quindi anche qui è diventato tutto molto più semplice perché tante volte mi succedeva di fare delle modifiche e poi di non salvare invece con il blender 281 non c'è più bisogno in più le cose sono messe in maniera anche un pochino più intuitive qua nel senso ingresso dunque vediamo io volevo fare navigazione ecco tra l'altro vi raccomando l'ho detto forse prima di mettere l'orbit around selection questo sapete cosa fa l'orbit around selection io lo spiego sempre nei miei corsi di base ma magari poi è sfuggito l'orbit around selection io trovo comodo perché quando faccio premo il tasto centrale e poi ruoto vedete che sto ruotando attorno alla scimmia ma se avessi usato la preferenza ve l'ho fatto vedere anche nel mio video se io tolgo questa opzione e poi faccio la rotazione in realtà lui adesso sta ruotando non attorno alla scimmia ma attorno ad un altro punto vediamo un po' se mi sto confondendo sta succedendo no è diverso la cosa cioè in pratica facciamo così shift questo se io sposto adesso ho selezionato la scimmia e poi vedete che sto facendo la rotazione non so se state notando che lui ruota attorno al punto centrale dello schermo quindi io vorrei andare girare attorno quindi io punto sull'oggetto ma in realtà lui mi gira tutta la scena è un po' scomodo no? invece per ovviare a questo inconveniente io uso il orbit around selection e a questo punto vedete che mi gira in maniera simile come quello che succede anche in second life o in altri mondi e poi facendo shift tasto centrale mi metto comodo e vedo come come muovi poi altre cosette interessanti da dire dunque questa è la scimmia come ho detto ok la centriamo tanto c'è c'è un tastino che è il punto se fate punto vi fa l'autocentramento no di default non ruota attorno alla selezione almeno io non l'ho mai visto ruotare di default comunque voi che ce l'avete controllate e fatemi sapere in ogni caso allora il punto del tastino numerico fa il recenter cioè il refocus sull'oggetto sull'oggetto che è utile perché se voi avete tante cose sempre se noi mettiamo i cubi aumenta e poi facciamo shift d per duplicare quindi vedete che possiamo duplicare cioè praticamente è abbastanza shift d è abbastanza comodo costruire una scena complicata a piacere e non era flaggato infatti allora a questo punto magari conviene se la scena comincia ad essere appena appena un po' complicata conviene potrebbe essere utile diciamo cliccare su un oggetto e poi fare il puntino per avvicinarsi all'oggetto e quindi vedete che fa lo zoom e fa lo zoom praticamente su questo oggetto che diventa importante ora volevo provare a vedere la domanda che avete fatto prima e vedere se riusciamo a fare i layer allora per fare i layer possiamo fare un layer quindi facciamo un nuovo layer e questo nuovo layer per vostra semplicità lo chiamiamo layer 1 ma in realtà i layer dovrebbero essere chiamati in un modo utile quindi mettiamo che sul layer 1 voglio mettere la scimmia allora per mettere la scimmia nel layer 1 si può anche fare così credo spediamo un po' move inside collection vedete che adesso la scimmia l'ho messa nel layer 1 in realtà credo che si possa anche mettere nel layer anche move to collection che è la M che tra l'altro la M c'era anche prima nella versione 2.79 si poteva fare M e specificare il numero dove si voleva mettere quindi se io voglio mettere questo cubo fare M e dice dove la voglio mettere nel layer 1 via è andata quindi non so se avete capito che stiamo praticamente ragionando in termini simili a quelli che c'erano in in blender 2.79 e poi se rimpicciolisco tutto vedete mi fa vedere i due layer quindi abbiamo la collection e il layer 1 e a questo punto io posso dire di nascondere tutta la collection e di far rimanere visibile solo il layer 1 non trovate che magari può essere all'inizio un pochino più un pochino più apparentemente meno bello di prima ma in realtà è molto più più espressivo no? e layer 1 ho semplicemente fatto tasto destro nuovo add a new collection oppure posso anche qui posso credo che funzioni se noi aggiungiamo un cono questo ctrl c ctrl d sì dicevo se questo cono che inserisco questo faccio m vedete che qui c'è più new collection quindi io posso anche selezionare questo questo e questo faccio m e dire vediamo e lo metto in una nuova collezione questa collezione la chiamiamo salazar e vedete che si è creata una nuova collezione con i tre oggetti che ho selezionato e dal layer 1 sono spariti perché quegli oggetti erano messi nella cosa qui il ctrl c lo posso fare anche qua ctrl c e ctrl v come vedete il cono ho fatto due coni adesso ho fatto il cono 01 se seleziono il cono 01 quindi vedete che c'è due coni e così via il ctrl c lo si può fare in generale su cioè questa cosa di poter usare le collezioni qua come ctrl c ctrl v insomma tutte queste cose qua funzionano bene solo con la 281 con la 280 non funziona benissimo era uno dei motivi per cui avevo suggerito il 281 in luogo della 280 poi allora abbiamo visto le collezioni che non avevo fatto vedere i miei video quindi spero che vi mi piaccia insomma sta roba c'è altro persa andiamo un po' al tac andiamo un po' al tac quindi questa è una novità ora vi faccio un ripilogo sulle sulle textualizzazioni ah ecco una cosa notevolissima che si può fare con blender 2.8 e la possibilità di fare con la 2.8 spesso non so invece il 281 non funziona beh il 2.8 era uscita l'anno scorso e può darsi che avesse ancora dei bachi no dicevo una cosa interessante che potete fare con la 2.80 è quella di selezionare tre oggetti e andare in modifica di tutti e tre contemporaneamente non so se state vedendo che adesso ho selezionato tre oggetti separate e poi sono fatto tab che mi va in modalità in modalità modifica e a questo punto posso manovrare tutti i vertici praticamente dei tre quindi posso prendere questo e modificarlo magari anche con cos'è qua è il proporzionale quindi posso abilitare il proporzionale e poi fare G quindi modificare praticamente contestualmente praticamente questo a volte è interessante quando avete magari un oggetto che avete fatto in come oggetti diversi e poi però vi trovate a dover modificare le tre parti distinte degli oggetti tutte le volte bisognava uscire e entrare uscire e entrare dalla modifica oggetto per andare per selezionare l'altro oggetto per modificarlo quindi questa è un'altra cosa interessantissima che vabbè adesso poi magari non la userete mai ma può capitare che vi interesse e la usiate poi hanno fatto un sacco di cose interessanti ma adesso sui strumenti e poi su tutte quando date modifiche vedete che sono comparse tutte queste cose qua tra l'altro vi consiglio di allargarli e tra l'altro se allargate questa cosa vedete che viene proprio la descrizione di ogni di ogni cosa oppure se la stringete un pochino appare a doppia e quando è fatta così sembra proprio uguale a quella che c'è in Photoshop quindi diventa la paletta proprio simile a Photoshop quindi avete qui ad esempio il knife tra l'altro il knife ecco questa tavolozza ha una differenza rispetto al blender 2.7 perché una volta che selezionate uno strumento quello strumento è sempre selezionato nel senso che io adesso taglio aspetta devo prima selezionare forse un oggetto ah si sta tagliando in realtà però perché non taglia dunque vediamo aspettavo che tagliasse mi sta tagliando e devo impararmelo un attimino bene mi aspettavo che tagliasse le cose magari c'è un difetto proviamo a tornare nella modalità object poi selezioniamo solo questo cubo andiamo in modalità editing ecco il knife probabilmente non funziona benissimo vedete che sono con knife e confermo e sto tagliando e poi continuo ad avere il knife attivo knife serve per tagliare gli oggetti quindi per avere queste cose qua quindi finché io abbandono questa paletta io sono sempre in modalità knife quindi non lo perdo non devo tutte le volte premere k no perché ce l'ho quindi se io adesso premo un'altra cosa tipo smussa smussa praticamente la adesso smussa bisogna selezionare delle facce o comunque degli oggetti e forse lo vediamo smussa sarebbe il bevel no magari facciamolo su un cubo normale così si vede meglio eccolo qua il cubo il cubo è questo e supponiamo di andare di nuovo in modifica o almeno selezionato smussa e qui se noi vedete che basta muovere il mouse ed è già attivo la modalità smussa no quindi cioè il momento in cui ho selezionato quello sono in modalità smussa e quindi il mio cubo viene automaticamente smussato e tra parentesi vedete questo è già anche un modo molto semplice per ottenere un cubo smussato in poco tempo nel senso che se vado così e poi magari gli metto l'ombreggiatore levigato ottengo già un cubo ben fatto che è un pochino più digitoso del cubo standard nel senso che non c'ha però più che più che diciamo insegnarvi quelle che sono tutte queste opzioni la cosa che ci tenevo era spiegarvi il concetto cioè che mentre è premuto è attivo quindi a questo punto io seleziono magari la faccia e poi visto che ho selezionato questo che è l'incassa facce posso muoverlo vedi che lui mi fa già automaticamente l'incassatura e poi posso di nuovo fare di nuovo con pochissimi con pochissimi praticamente devo cliccare quasi niente il il mouse per riuscire già a ottenere questa cosa e poi posso per dire fare cliccare su questa scanalatura che ho prodotto nel cubo e poi a questo punto posso per dire fare g dove era? era sul non lo più quindi un po' se x no y no vabbè perché c'ho il c'ho questo che non mi utile faccio g questo vedete che posso praticamente muoverlo adesso era solo per dirvi appunto che si hanno accesso praticamente a queste funzionalità interessanti l'altro ho fatto anche un video per i più esperti di voi se se vi interessa su come usare gli uboleani adesso non c'è tempo di vederlo adesso il tuo risultato il mio beh diciamo che io adesso sto pasticciando tra l'altro ecco una delle cose che capita a volte con Blender è di mettersi lì a torturare questi cubi per vedere cosa esce ed è anche una forma di passatempo non scaccia pensieri non so se lo fate anche voi comunque l'altra cosa fondamentale di Blender 2.8 è il fatto che c'è il motore EV e il motore EV è questo questa cosa che si vede qua nel render properties e quando si è in modalità EV la resa è praticamente quella del definitiva nel senso che se io qui do dei colori proviamo a metterci allora qui seleziono questa scimmia vado nella texture e qui creo una texture che chiamo rossa no? allora perché la texture sia rossa dobbiamo metterci rosso giusto? e perché effettivamente la scimmia sia effettivamente rossa dovrei dovrei fare in modo tale che sia assegnato tutta la mesh rosso l'assegnazione dei colori almeno per quello che ho visto si può fare solo quando si è in modalità modifica quindi si seleziona con A e poi si deve fare assegna e a questo punto la scimmia è diventata rossa non la vedete rossa perché per vederla rossa dovete andare nella modalità o in questa modalità che è la modalità visuale vedete che è diventata rossa che già si vede la scimmia rossa quindi si è assegnato il colore giusto se qui vogliamo che questo diventi invece verde facciamo materiale verde verde lo facciamo così e poi mi hanno detto che dobbiamo andare in modalità modifica selezioniamo tutto ecco una modifica qui che è stata fatta con blender 2.8 e che ha seleziona sempre no? per deselezionare tutto bisogna fare non mi ricordo se shift no era alta alta deselezione quindi con A seleziono tutto e con alta deselezionate quindi chi di voi è abituato a fare A per selezionare o deselezionare nella funzione base di blender non funziona se la rivolete indietro però c'è una preferenza da qualche parte che permette di riottenere il comportamento originario adesso non so se lo riesco a ritrovare ma ci sarà da qualche parte comunque c'è se per caso poi la volete la cercate c'è un'opzione io l'ho usata non sono riuscito ad usarla modifica niente non la trovo animazione sicuramente no ingresso poteva esserlo ma non lo trovo forse keymap ah questo qua potrebbe essere select all toggles è questo qua non so se vi interessa come dunque voglio mettere la cosa allora se voi mettete select all toggles toggles vuol dire che va su e giù cioè è alternato allora a questo punto quando selezionate un oggetto che fate A vedete che torna al comportamento di una volta quindi io non lo so non ho ancora capito se mi piace di più la versione nuova o la vecchia però in ogni caso se la volete analogamente se volete avere di nuovo il tasto a destra c'è anche la possibilità di avere il tasto a destra come selezione e ritornare alla versione vecchia ma io direi che non è la cosa che vogliamo fare allora diciamo questo qui l'abbiamo fatto verde e poi vogliamo fare questi ecco la cosa interessante è che se questi qui li vogliamo fare blu questi affari qui quindi facciamo un materiale blu e adesso facciamo il blu e poi andiamo e vedete che abbiamo fatto blu soltanto il materiale di questo oggetto ma se noi entriamo in modifica selezioniamo tutto e poi assegniamo in teoria avrebbe dovuto assegnare il blu a tutti no l'ho fatto lo forziamo e diventano blu comunque quello che volevo prevedere brevemente era solo appunto così li vediamo colorati ma facendo così li vediamo i nivi e vedendoli i nivi si vede adesso ci vede una schifezza ma se ci fossero delle luci delle cose eccetera qui si vedrebbe tutto molto più ah si si vede una schifezza per un motivo perché probabilmente manca una luce vedete qua delle luci no le abbiamo cancellate per errore quindi dobbiamo aggiungere nei nostri layer che stiamo facendo quindi siamo sul layer 1 facciamo shift A e aggiungiamo una bella luce se la troviamo light probe leggera ah si perché leggera ah light hanno fatto una traduzione interessante leggera vuol dire luce quindi se mettiamo una luce tipo sole ecco che vedete che improvvisamente abbiamo un'illuminazione migliore ora non riusciamo a vederlo adesso pienamente ma la qualità della della riprese delle foto fatte con Eevee è molto simile forse addirittura leggermente meglio della qualità delle luci e delle riprese che venivano fatte con Blender 279 in modalità Rendered non so se sapete che in Blender 8 praticamente è scomparso il Blender Render Engine cioè la resa diciamo di base ma è rimasto solo questo Eevee che in realtà è molto potente che in realtà è molto simile a Cycles Cycles è un motore di rendering che serve se noi qui mettiamo il ciclico Cycles e come vedete che ottiene questa visualizzazione che è tutta fatta a sabbia mentre vi muovete cambia la resa adesso a voi per questa scena qua che facciamo noi non cambia molto ma in realtà per chi usa Blender a livello professionale vediamo un po' se è arrivato perché non trovi l'icona lampadina perché probabilmente sei in modifica cioè se tu sei su un oggetto e vai in modifica quindi adesso stiamo in magari torniamo la modalità così quando fai Shift A vedi che è così che ti appare perché sei in modifica per avere le luci ah ho capito dove perfetto quindi il ciclico noi normalmente useremo nei nostri corsi non tanto il ciclico ma il IVI che è quello di base in realtà c'è ancora una modalità che si chiama Workbench e nella modalità Workbench praticamente le cose vengono viste in maniera tipo gesso nel senso che si può scegliere come si vogliono vederle le cose aspettate dunque c'era la possibilità però adesso non lo vedo vabbè non me lo fa vedere comunque si lavora tipo con la creta insomma si può vedere si possono vedere le cose in maniera semplificata forse opzioni neanche magari lo riprovo poi dopo ve lo faccio vedere questa modalità ma noi comunque secondo me lavoriamo tranquillamente in IVI e direi che siamo a posto allora giusto per non lasciare le cose pesanti a meno quando abbiate qualche altra domanda anzi se avete altre domande testorizzazione del Vimap è esattamente come prima nel senso che si prende l'oggetto questo cubo si va in modifica si va in UV editing quindi compare automaticamente questa cosa novità rispetto al 279 che vi fa già una Vimap ma se questa Vimap non vi piacesse la potete rifare esattamente come si faceva in Blender 279 quindi praticamente un Vimap si prende questo oggetto qua si seleziona le facce che si vogliono fare poi si fa U e si si fa U per fare la sviluppatura e poi si possono fare insomma le varie tipologie di cose però è sostanzialmente identica ma adesso questa di oggi l'Uimap non ne parliamo tenete però conto che essendo che lavoriamo con Ivi quando poi andrete a fare la texturizzazione non so se fosse questo quello che chiedeva che chiedeva Maria Luisa quando si va a fare la texturizzazione è vero che si può lavorare qua sopra ma sostanzialmente si useranno i nodi e quando si usano i nodi c'è qui lo shading e qui ci sono i benedetti nodi e si lavora praticamente da qua soprattutto quando ci sono delle texturizzazioni complesse si può anche non usarli i nodi nel senso che si può direttamente quanto meno se qui si clicca così e si clicca sul nostro oggetto si può continuare a lavorare praticamente qua quindi si può dire il colore eccetera eccetera mettere lì e qua usa i nodi ecco vedete che qui c'è il nodo cioè ci sono i nodi ma io potrei non sapere che ci sono i nodi e lavorare qua e vedete che quando cambio i colori base eccetera vengono modificati automaticamente anche qua dunque adesso non è questa la serata per discutere i nodi diciamo che i nodi sono solo un modo alternativo perché il problema è che mettendo le opzioni tutte qua diventano troppo complesse alla fine quindi se uno vuole mettere qua una roba che è un colore però vuole anche mettere il fatto che sia trasparente che rifletta eccetera metterle tutte qua diventa un massacro perché dovrebbe mettere 7000 7000 cose quindi si preferisce metterle visualmente nel senso che si mette un si mette un un cioè un nodo un oggetto che genera praticamente il suo effetto per esempio questo qui è il nodo bsdf che è il nodo che controlla tutto che sono le stesse cose che vedete qua però se uno vuole aggiungere del tipo riflessione o altre cose strane deve aggiungere altri nodi cioè per fare una serie di cose notate che in realtà già nel render 279 hanno aggiunto questo bsdf che era quello diciamo della Disney ma nelle versioni precedenti sui nodi per ottenere quello che faceva questo nodo bisognava mettere insieme 4 o 5 altre cose quindi hanno già semplificato parecchio quindi dal vostro punto di vista l'unica cosa che dovete sapere per i nodi è semplicemente che normalmente abbiamo un'impostazione come questa che a tutti gli effetti è la stessa cosa di questa colonna di destra e poi qui volendo si possono aggiungere delle cose per inserire un suo tipo una textura e per se io voglio mettere una textura di mattoni e qui vedete che comincia a diventare interessante cioè io ho questo oggetto qua lo faccio blu però se voglio metterci dei mattoni allora devo diventa più semplice dire che il suo colore è definito da un oggetto che mi genera dei mattoni e quindi come vedete ho ottenuto questo effetto ho mattonato praticamente il il mio oggetto non so se se vogliete che questa cosa qua permette di controllare praticamente tutte le caratteristiche delle texture in modo alla fine più semplice mentre invece fare queste cose qua semplicemente con delle con delle robe qua tutte attaccate una all'altra alla fine non si capisce niente quindi è stato dunque ci farai giocare con i nodi in realtà nelle prossime lezioni dovrebbe esserci Eva e Giovanna e bisognerebbe chiederle loro se hanno voglia di di fare comunque ci sarà di nuovo probabilmente una lezione mia e se è il caso potrei potrei giocare con i nodi in quella lezione lì Eva ci sei? ma giocare con i nodi più che altro per togliere la paura di nodi come al solito io direi che magari quando si fa modellazione sui nodi forse non è il caso di approfondirli troppo perché sennò diventano lezioni eccessivamente grosse magari li facciamo di nuovo l'importante è che i nodi non si aggrovegli va bene allora dicevamo prima altre cose altre domande prima di tuffarci nel letto non sopra rispondere dovrei googlare quindi a quel punto lo puoi fare anche tu però si può vedere se per caso c'è a parte gli add-on si può vedere se c'è qualcosa che lo supporta già no allora blender direi che è dentro non ce n'ha però bisogna anche vedere se no questa è la keymap no add-ons dxf ah vedi che ce l'ha non è neanche è un add-on ma è distribuito automaticamente autocad direi autocad dxf quindi direi che ce l'abbiamo e viene usato per per importare esportare da autocad ci si direi che è uguale ecco la cosa che nel 281 non ha cambiato leggermente questa finestra di selezione del dei file che è diventata come vedete molto più elegante rispetto a prima e quindi è abbastanza sì comunque qui degli add-on fate esattamente come sopra nel senso che potete vedere tutti gli add-on quelli della community quelli ufficiali e poi gli abilitati e disabilitate esattamente nel stesso modo e poi qui ci sono tutte le impostazioni per farlo allora se siamo d'accordo quindi adesso tra poco finisco la registrazione la settimana prossima non so nel calendario cosa abbiamo detto che ci sia facciamo bit.ly e mettiamo edu3dcal1 quindi quella di oggi è questa blender1 salazar e poi venerdì ci serve stata eduVR ma che saltiamo mercoledì 5 febbraio c'è l'escape room famosa in cui molte di voi sono coinvolte e poi vediamo se riusciamo a partire il venerdì 7 febbraio con eduVR e poi se va bene ah sì però se l'ha detto che è di cambiare il giorno quindi di tenere il mercoledì ma adesso magari ne parliamo meglio nel forum per capire un attimo come come ridistribuire le varie le varie le varie lezioni anche sulla base di quello che mi avete detto dunque beh due incontri alla settimana allora l'idea era appunto quella di riuscire a fare un po' le cose senza dimenticarci niente per strada ma se effettivamente non ce la facciamo a stare dietro sia noi che voi piuttosto ci ci li diradiamo comunque lo vediamo meglio allora mi piuttosto che facciamo faccio il stop del recording